segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ti baldi ma allora non abbiamo capito l'essenza i telespettatori di tagadano hanno capito l'essenza nel frattempo lo dice i vasori sono vanno trattati io devo devo fare una confessione la faccia temo di non averla capita neanche io l'essenza ma soprattutto quello che mi ispira è una cattiveria con chi è più povero tant'è che la riforma fiscale non crea un sollievo consistente alle fasce più basse né con gli scaglioni né con alessandro ce fa così insomma quello che avevamo l'anno scorso abbiamo quest'anno ce l'aveva già dato draghi prima ce l'ha andato l'anno scorso il cuneo adesso con l'accorpamento delle aliquote 20 euro al mese uno ma due soprattutto un bisogno che ci si metta d'accordo con se stessi cioè se chi evade un terrorista se l'obiettivo politico è colpire grandi evasori a me sfugge quando l'hanno fatto hanno fatto finta una volta hanno detto adesso ci pensiamo noi con le banche gli extra profitti tassiamo e recuperiamo denaro che investiremo per finito tutto nell'arco di un piccolo circo equestre allora io penso che i lavoratori e i cittadini abbiano un po questa sensazione di presa in giro perché non percepisce azioni forti determinate nella lotta ai grandi evasori al tempo stesso è la sensazione che ciò che si recupera si recupera legittimando chi ha fatto il furbo chi paga per esempio lavoro dipendente perché paga alla fonte assiste a uno spettacolo che è poco decoroso io trovo poco decoroso io ero presente perché come ha visto era l'ambizione ad